In alcune regioni del mezzogiorno sono un ragazzo su due delle scuole medie e comprende correttamente quello che legge, addirittura due studenti su tre, il 35-40% non sono capaci di leggere e comprendere un testo in inglese. E quanto emerge dal rapporto Invalsi 2023 che evidenzia così una forte disuguaglianza tra nord e sud? Un'Italia spaccata almeno in due con i ragazzi del mezzogiorno fortemente pregiudicati nelle prospettive formative, nell'opportunità formative e quindi anche ovviamente occupazionali rispetto a studenti di aree più avvantaggiate del paese. Da qui la decisione di presentare anche con il contributo di Invalsi, collaborerà poi anche in dire, un'agenda sud. L'agenda sud annunciata da ministro si concentra in dieci punti e prevede l'individuazione delle scuole dove concentrare risorse che arrivano anche dal PNRR. Il governo, come annunciato da ministro Fitto, sta revisionando i progetti per un diverso utilizzo. Insieme a Grecia e Spagna siamo gli unici paesi che abbiamo chiesto la terza rata e siamo già molto avanti anche per quel che riguarda la quarta rata. Quindi lo ripeto, il lavoro che stiamo facendo è un lavoro serio ed era un lavoro necessario perché il piano nazionale di ripresa e resilienza che abbiamo ricevuto in eredità necessitava di una rivisitazione in ragione delle montate condizioni di contesto. Ma il PNRR è anche oggetto di discussione tra maggioranza e opposizione, sempre più convinta che il governo non sappia gestire così tanti fondi. Il governo ha gettato la maschera, è stato costretto finalmente ieri Fitto in conferenza ad ammetterlo. Non riusciamo ad attuare il PNRR, siamo in grave ritardo, lo sapevamo già. Benvenga finalmente questa ammissione di responsabilità e dei ritardi da parte del governo. Noi possiamo, con i crediti in posta, creando un meccanismo di gestione, far ripartire il PNRR.